Piano piano stiamo cercando di migliorare il calcio. Non siamo ancora al 100% quello che vuoi il mister, ma piano piano stiamo riuscendo a capire il gioco che vuoi lui. C'è stato un confronto di recente tra la squadra e il tecnico, perché in campo si vedono netti miglioramenti e qualcosa di diverso rispetto alle prime partite sembra esserci. No, stiamo cercando soltanto di rispettare quello che vuoi lui. La squadra sta seguendo, alla grande, piano piano, dobbiamo avere ancora un po' di pazienza che non siamo ancora topi. Questa è la mia prima partita dall'inizio nel campionato, sto ancora a cercare la migliore forma e credo che piano piano, abbiamo ancora due settimane prima del derby, di mettere a posto le gambe, la testa per arrivare al derby al 100%. Grazie